Musica Vi voglio presentare Don Giuseppe e come sapete tra qualche giorno mi sostituirà Vi dovete stare vicini, come lui starà vicino a voi, mi raccomando Certo, a questi giovani hanno mannato in danno posto con me, chiest Hanno interrato rifiuti tossici di tutti i tipi per questo scempio che la nostra gente sta morendo prima del tempo Ma che ho vedevi, chiest In questo posto purtroppo abbiamo delle priorità, lo capite sì o no? Mi hanno detto che è più di un anno che il campetto è chiuso I bambini dovevano ancora aspettare La prossima volta, un biglietto inizia di... Venite a dove? Tu sai che qua la situazione è complicata Quindi mantieni l'equilibrio Io sono qua per aiutare la bambina, aiutare anche te Ma ti devi fidare di me Quando si affrontano certi temi bisogna essere certi delle scelte che si fanno Sicuramente, sicuramente Ma quando sei venuto in tuo quartiere mio, mi hai creato solo un biglietto in terra Ma perché non fate un indaggio? Non alzi la voce, provati quello che dice, non ce ne sono Per ritrovo la moderazione, l'equilibrio, solo che puoi farlo Dovete fare solo quello che dovete fare Fate sacerdote e basta Dani, ma se vi manco in chiesa a pregare Sta gente può che fine fa Grazie a tutti